Camilla, duchessa di Cornovaglia, ama un paio di fiori e in precedenza si è descritta come una giardiniera appassionata. Tuttavia, non è sempre stato così, come ha ammesso la duchessa in un'intervista pubblicata di recente sul suo account Instagram The Reading Room. Camilla ha rivelato che doveva rivolgersi alla sua defunta madre, Rosalind Shand, per aiutarla a superare la sua paura del giardinaggio e accendere la sua passione. La duchessa si era sentita sopraffatta dal compito di mantenere i giardini di Bolea Kyd Manor nel Wiltshire. La casa che condivideva con il suo primo marito Andrew Parker Bowles, nella sua disperazione, si rivolse a sua madre per un buon consiglio sull'orticoltura. La duchessa ha ricordato. Ricordo la prima casa che ho avuto, guardando questo giardino e poi dicendo a mia madre. Aiuto. Sai? Dove vado da lì? Mi ha insegnato a potare. Mi ha insegnato a piantare. Mi ha insegnato a diserbare. Voglio dire. Vai in giro pensando che diserbare sia facile. Basta tirare fuori l'erba. Ma c'è una grande arte in questo. Rosalind aveva perfezionato le sue abilità nell'orticoltura curando i giardini della casa d'infanzia di Camilla. Telen. Una volta acquisite le basi, Camilla non si è mai guardata indietro poiché ha iniziato a fidarsi del proprio istinto creativo nell'allestimento del suo giardino. Ha paragonato il giardinaggio alla pittura. Aggiungendolo guardi con gli occhi socchiusi e in qualche modo ottieni i colori. La duchessa fa ogni sforzo per ispezionare i suoi giardini sia a Clarence House che a Igrove il più spesso possibile, condividendo l'emozione che prova guardando le sue piante crescere. È solo l'eccitazione di guardare, ha spiegato. Ogni giorno vado, beh, quando posso, a vedere come è cresciuto qualcosa, come si è evoluto. Non smetti mai di essere eccitato da quello che c'è. Penso che sia la cosa più terapeutica che potresti fare dopo la lettura.